Abbiamo con noi da Rabat, capitale del Marocco, Abderrahim Manar Slimi, presidente del Centro Maghreb per gli studi sulla sicurezza e analisi politica. Benvenuto su Euronews. In qualità di esperto e competente di questo conflitto, è possibile spiegare le ragioni che hanno portato il Marocco a decidere per un ritiro unilaterale da regione Gergerat al confine con la Mauritania, su richiesta di Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite? Ci sono stati dei cambiamenti di re strategici. Il fronte polisario ha avuto molti comportamenti che non hanno rispettato il cessato e il fuoco ed è andato contro le condizioni concordate. Ha continuato poi sulla costa atlantica, attraverso il territorio della Mauritania, poi sulla rotta del commercio internazionale. In quel tempo c'era una grossa confusione sul ritorno del Marocco nell'Unione Africana. Poi, quando si sono ricongiunti, a fine gennaio c'è stata questa richiesta da parte del segretario delle Nazioni Unite. È stato firmato un accordo e il Marocco intende rispettare sia il diritto internazionale che il cessato e il fuoco. Quindi Rabat ha proceduto ad un ritiro unilaterale dalla zona. Il polisario è caduto proprio in quella che possiamo considerare una trappola. Qual è la situazione attuale sapendo che il fronte polisario non ha lasciato la zona all'inizio di un confronto tra ONU e polisario? In primo luogo cerchiamo di essere chiari. Ora tutto il controllo è del polisario che sta violando le norme del diritto internazionale cercando di evitare un corridoio per il commercio internazionale. Possiamo considerare questo come un atto di aggressione, come definito dalla Carta delle Nazioni Unite. La situazione viene attentamente monitorata dal segretario generale delle Nazioni Unite che si appresta a presentare una relazione al Consiglio di Sicurezza. Ora che il Marocco si è ritirato dalla zona, tutti sono in attesa di vedere cosa farà il polisario. La richiesta di ritiro del segretario generale delle Nazioni Unite rispecchia un po' la situazione del Consiglio di Sicurezza. Il polisario sembra essere in quella posizione dove non sa se andare avanti o tornare indietro proprio perché è stato sorpreso dal ritiro del Marocco. Il fronte polisario si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ci saranno negoziati per cercare di trovare una soluzione al contenzioso politico e commerciale? Credo che sia il comportamento del fronte polisario che il ritiro delle truppe da parte del Marocco sia una sorta di certificazione della comunità internazionale su quanto sta accadendo. Il polisario ostacola la strada e quindi il Marocco ha diritto ad autodifesa. Perché? Dato che tutti gli atti del polisario sono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Noi non possiamo rinunciare a questa regione. Il Marocco non permetterà al polisario di dire che quelli sono territori liberati. E che cosa accadrà se poi le richieste non verranno soddisfatte? Il fronte polisario non rappresenta i Sarawi nelle province meridionali che hanno scelti i propri rappresentanti. Quello che è successo dimostra che gli europei sono preoccupati per il ritorno del Marocco nell'Unione Africana nel senso che il Marocco, che è già stato un partner strategico e in Africa, ha un'ottima posizione. Grazie per questi chiarimenti e questa è la versione del Marocco. Per sapere cosa ne pensa il polisario, restate con noi.